Nel corso Milk Art quello che andremo a vedere è soprattutto la parte del disegno d'autore. Le tecniche che affrontiamo sono latte art, quindi andare a capire un attimino come funziona la montatura del latte per andare a fare sì che possano creare i nostri disegni, quindi poi andiamo a lavorarli, a disegnarli con il painting, con l'hatching, un po' tutta la parte dei disegni in generale. Quindi andremo a vedere tutta la parte del caffè, dalle botaniche della pianta, che sono fondamentali, a capire il perché in Italia si usa un blend di caffè. Ma soprattutto quello che si va a vedere nella parte del Milk Art sono i disegni. Chi esce dai nostri corsi ha la possibilità di spaziare in vari disegni su cappuccino, quindi fare l'effetto wow.